Da oggi parte la fase 2 del reddito di cittadinanza per gli oltre 704.000 beneficiari con la loro convocazione nei centri per l'impiego con l'obiettivo di un'occupazione e la formazione dei navigator, come previsto dalla legge. Tra questi ci sono i 64.000 calabresi che insieme a Campania, Sicilia e Puglia rappresentano circa il 65% di quanti hanno beneficiato di questa misura. Per una valutazione degli effetti di questa politica però ci vorrà almeno un anno prima di poter effettuare una prima valutazione sui suoi effetti. Ad oggi, ed in modo particolare in Calabria, questa misura ha avuto un forte impatto sui soggetti di età compresa tra i 40 e i 67 anni a fronte di un 22,3% tra i 25 e i 40. E' quindi verosimile pensare che si tratti di una misura che è stata usata come strumento di sostegno al reddito prima ancora che come politica di inserimento lavorativo. In generale ha avuto una bassissima incidenza e un bassissimo successo fra i giovani, inadeguata pertanto ad incidere sulla disoccupazione giovanile. La nostra regione però tra quelle del mezzogiorno è la prima rispetto alla Sicilia e alla Campania e alla Puglia per quanti hanno soffrito di questa misura, che da molti studiosi della materia viene definito un ibrido che potrebbe non facilitare la transizione al lavoro, facendo solo crescere il numero dei lavoratori in nero e il numero dei furbetti del Bancomat di cittadinanza. Ma al tempo stesso il reddito di cittadinanza ha avuto un grande successo in termini di domande presentate appunto nelle regioni meridionali. Questo vuol dire che, sempre secondo gli stessi studiosi, attraverso una sua rimodulazione potrebbe aiutare lo sviluppo delle aree depresse del Paese e contribuire effettivamente alla lotta della povertà.